Sergio Guarini, event manager di questa serata qui all'officina, sono circa le ore 22 e già oltre un centinaio di persone rende questa sala affollatissima, una grande passione. Intanto, cosa è successo al braccio? Intervento programmato, niente che ha a che fare con la salsa, non ci facciamo male quando balliamo. Non ti ferma nulla? No, 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 assolutamente. Dicevo, ma qual è questa ricetta misteriosa che attira tanta gente di tutte le età, dai ventenni ai quarantenni ai cinquantenni? Ripeto, è ancora presto e la febbre sale, sale, sale. Ma non è un segreto, sono nel mondo del latino da oltre vent'anni, conosco le esigenze e il prodotto che le persone vogliono. Chiaramente, come puoi vedere, abbiamo dai 18 anni a salire. Tutte le scuole di ballo di Taranto, e non solo di Taranto, collaborano con questa serata, così come i migliori DJ che avete avuto modo di intervistare e che vedrete anche nelle prossime serate. È semplicemente un posto favoloso che la proprietà mette a disposizione. L'aiuto di tutte le scuole, ripeto, che permette poi di iniziare molto presto, perché alle otto e mezza abbiamo già iniziato. A luna saremo già tutti quanti a letto, perché domani... Anche domani, lunedì, si lavora, però è bello vedere tanta partecipazione, tanta sana voglia di divertirsi. Ed è un numero di persone che cresce ogni domenica e ringraziamo sicuramente tutti loro. La temperatura sale, 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 sale. E sarà sempre meglio. Grazie.